buonasera a tutti benvenuti a questa nostra nuova puntata delle serate del drago siamo in diretta su facebook ancora una volta siamo ormai oltre la trentesima puntata di queste serate chissà quante altre ne faremo si vedrà oggi la tematica che verrà trattate molto particolare ce ne parlerà giuseppe reguizioni che già in collegamento ma come sempre per introdurre e presentare la serata la parola al nostro conduttore giovanni polli grazie a tutti e buona conferenza grazie marco e i ringraziamenti come sempre consuetudine vanno solo tema tutta l'associazione gilberto netto perché mi dà sempre l'onore di condurre la serata del drago che è un appuntamento credo che sia destinato nel nostro piccolo ma mi auguro anche nel nostro grande a fare un po la anche la storia della comunicazione certamente sui sulle nostre tematiche territori rapporti col potere centrale la cultura locale la cultura territoriale e la storia anche rivista attraverso una sensibilità che non è quella ufficiale credo che sia un po veramente un unicum la nostra iniziativa e quindi sono veramente felice di dare il mio piccolo contributo affinché questa possa andare avanti e crescere naturalmente allora io questa sera sono veramente felice di ritrovare l'amico giuseppe reguzioni in questa serata in cui si parlerà sicuramente di storia perché il punto di partenza è quello si tratta di un libro adesso poi ce ne parlerà più approfonditamente lui un libro che riguarda la prima guerra mondiale ma da lì e si va a toccare un tema che tocca direttamente anche me come giornalista in questo caso ma credo che tocchi tutti come fruitori dell'informazione o della sedicente informazione quindi la propaganda la propaganda in particolare la propaganda di guerra ieri e poi giuseppe ci dirà se vuole portare l'argomento anche al giorno d'oggi perché di propaganda di guerra ne stiamo facendo una dose veramente industriale quasi oserei dire biblica comunque non voglio anticipare niente io quindi saluto giuseppe ciao e naturalmente che bello ritrova gioanna buonasera a tutti gli ascoltatori ecco ti do quindi la parola introduci l'argomento io piccolo l'ho fatto però partendo appunto anche dal libro e dalla ricerca che insomma adesso ci presenterai benissimo ma in effetti una delle ultime volte che io sono stato partecipato a questo ciclo di conferenze a parte la gioiosa eh con partecipazione alla presentazione del re di pietra eh ho sempre parlato di storia è vero e eh e anche stasera in qualche modo parleremo di storia solo che parleremo della storia inventata a tavolino eh rischiando se volete addirittura l'accusa di cospirazionismo ma non è così perché questa sera parleremo di storia e di propaganda per la precisione d'altra parte una piccola premessa prima di arrivare a citare il volume di poson vai poi vi dirò anche chi è e di che cosa parla mh me la dovete concedere una promessa un po' filosofica Friedrich Nietzsche nelle considerazioni inattuali ce n'è una dedicata alla storia ci ha rispiegato che la storia è narrazione cioè fondamentalmente è un racconto questo del resto è anche il senso originale della parola storia in greco è una narrazione che è sulla bocca di qualcuno che quando parla o sulla penna di qualcuno ha sicuramente eh in mente qualche cosa noi ci siamo spogliati da tempo dall'illusione che questa narrazione possa essere totalmente oggettiva nella migliore dell'ipotesi è un rapporto sobrio tra chi racconta e ciò che viene raccontato questo dovrebbe essere anche la vera etica del giornalismo che purtroppo eh è dimenticata soprattutto da quelli che contano perché questo perché se la storia è narrazione l'interesse di chi narra può diventare la lente di ingrandimento che focalizza ingrandisce questo evento piuttosto che un altro o qualche volta addirittura trattandosi di narrazione che la teatralizza magari anche inventandosi qualche cosa di molto interessante no? E d'altra parte i greci già lo sapevano la 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 storia la narrazione è una parte della retorica proprio perché narrazione è retorica cioè comunicazione Platone distingueva tra la buona e la cattiva retorica la buona retorica è quella che dovrebbe servire a difendere chi è innocente perché la retorica nasce nei tribunali la cattiva retorica è quella che invece vuole portare a casa dei risultati spesso di carattere economico comunque di altro genere in tempi più recenti Ezio Raimondi che ha insegnato eh linguistica ma anche letteratura a Bologna per tanti anni ho avuto l'onore di conoscerlo distingueva tra comunicazione autentica e comunicazione non autentica se parliamo di psicologia lo capiamo al volo no? La psicologia non autentica quella che manipola l'altro per i propri interessi ma questo ha un valore anche questo questa distinzione tra comunicazione autentica e non autentica ha un valore anche nella storia e per quanto riguarda noi anche nell'analisi della società nella sociologia la comunicazione non autentica è quella che avviene avendo di mira la manipolazione di un'intera società o di un gruppo di maggioranza all'interno della società cioè alla ricerca di un consenso e allora prendo subito un esempio dal volume di questo importante autore poco conosciuto in Italia che è Arthur Posomba e con una piccola premessa nella immagine di presentazione di questa serata vedete un ragazzino puffo quasi vicino alla regina Vittoria imperatrice delle Indie sovrana notissima ecco questo paggetto è Arthur Posomba da bambino perché Arthur Posomba apparteneva come si dice all'elite britannica quella che contava insomma il papà era segretario della regina Vittoria è cresciuto a corte anzi è nato addirittura nel canzello nel castello di winzo quindi pensiamo un po' e entra molto presto in politica nel partito liberale alla vigilia della prima guerra mondiale passa ai laboristi passa ai laboristi perché perché Arthur Posomba è uno dei pochi uomini politici intellettuali inglesi a essere contrario all'ingresso della Gran Bretagna nella prima guerra mondiale tra poco arriveremo a dire delle cose che noi abbiamo già detto tante volte ci stupisce però sentirle dire dalla bocca di un inglese concedendo quel che si deve concedere ai luoghi comuni in ogni caso perché perché Arthur Posomba non è solo contrario all'ingresso della Gran Bretagna nella prima guerra mondiale ma raccoglie una serie di documenti storici fondamentali per spiegare ai propri lettori a guerra finita come mai la Gran Bretagna è entrata in guerra la premessa il volume che si intitola eh menzogne di guerra nella traduzione italiana che è stata fatta come sempre per le cose che contano molto da un piccolissimo editore dell'ornitorinco eh Fails Hood in inglese ha avuto tantissime edizioni questo libro tra il 1918 e guarda caso il 1940 eh Posomba è all'inizio di questo testo eh fa una piccolissima premessa e dice ma in Inghilterra in Gran Bretagna anzi per essere più precisi nel 1914 la guerra non la voleva nessuno ma proprio nessuno non si capiva perché bisogna sentare in guerra a difesa della Serbia dopo che era stato assassinato un erede al trono come se diceva lui in Inghilterra ammazzassero il principe regente che sta per diventare sovrani insomma no ci lascerebbe molto perplessi e dice ma come hanno fatto a farci entrare in guerra e qui ho scoperto io stesso un dato non proprio secondario vale a dire che eh la la Gran Bretagna aveva sottoscritto questo lo sappiamo tutti un trattato di reciproca difesa con la Francia e con la Russia no lo sappiamo ma quello che non sappiamo che questo trattato era segretato no ora questo lo dicesse un cospirazionista qualunque ma poi Zombay è stato sottosegretario della difesa del Regno Unito subito dopo la prima guerra mondiale quindi ha avuto accesso a documenti non riservati riservatissimi tra questi documenti ce ne sono alcuni in cui si dice che il governo inglese dava disposizione attenzione alle parole perché sto pesando alla stampa britannica che è celebre per la propria libertà si dice di eh in qualche modo dipingere nella maniera più tra tragica drammatica con colori foschi quello che stava accadendo e di lì a poco comparve scoppia la guerra come sappiamo la Gran Bretagna entra in guerra con l'opinione pubblica non proprio ancora entusiasta cominciano a girare sui giornali inglesi immagini che poi si scoprivano ritoccate di un bambino belga cui tedeschi avevano tagliato le mani ma guarda che barbari questi tedeschi l'episodio è riportato nel primo capitolo in uno dei primi capitoli del volume per esteso a cosa serviva questo a creare un'indignazione tremenda nell'opinione pubblica noi non entriamo in guerra perché eh abbiamo degli interessi come avrebbe detto all'epoca anzi come scrisse all'epoca alieni perché non sia sospetto sicuramente di liberalismo insomma no per gli interessi dell'impero o dell'imperialismo ma per i diritti dell'uomo e dei bambini perché chi taglia le mani a un bambino è il peggiore dei criminali e va combattuto è peccato che questa immagine sia falsa questa immagine falsa una delle prime dei primi ritocchi fotografici va bene della dell'epoca e della storia arrivò poi negli stati uniti suscitando anche lì un'ondata di indignazione sempre nello stesso volume sempre all'inizio della della guerra sappiamo tutti che la la germania invade il belgio nel tentativo di aggirare la linea di difesa francesi e nel durante l'invasione del belgio viene bombardata la città di lovanio in gran bretagna in francia e anche in italia perché nel frattempo la campagna pro guerra stava cominciando anche in italia cominceranno a comparire immagini dei tedeschi che sparavano i crocifissi alle cappelle intorno alle strade o al presunta distruzione della pala d'altare della città di lovanio ora è vero sul piano storico che la città di lovanio importante città universitaria nella belgio fiammingo fu bombardata da una parte e dall'altra ma la realtà un po diversa da quella che compariva sulle immagini perché in realtà la pala d'altare fu salvata dai tedeschi che la sottrassero ai bombardamenti tant'è vero che la possiamo ammirare ancora oggi ora sono quei piccoli ragionamenti che ci direbbero due più due fa quattro insomma se la possiamo ammirare ancora oggi evidentemente non è stata distrutta insomma no la la notizia però continuò a circolare lungo tutta la prima guerra mondiale ma guarda questi barbari poi ci aveva messo qualcosa di suo anche l'imperatore il kaiser quando aveva detto arrivano gli uni no con un'ispressione sicuramente infelice poi subito strumentalizzata si trattava cioè di qual è l'operazione in corso il bambino con le mani tagliate i tedeschi che spagano le croci o alle cappelle figuriamoci dai ecco notizia riportata anche in italia la cosa è curiosa perché l'italia era all'epoca un paese governato fondamentalmente dalla massoneria da governi fortemente anticlericali che questi si mettessero a fare la morale sui tedeschi che spagavano sui crocifissi lasciava un attimino perplesso chiunque fosse capace di pensare minimamente insomma anche perché la stessa operazione sarebbe stata compiuta all'anno successivo nel 1915 tra la fine del 1915 quando l'austria bombardò in effetti bombardò venezia la stazione di venezia per la precisione una bomba centrò la vicina chiesa dei carmelitani che stava accanto alla stazione di venezia la stazione principale la stampa italiana parlò di una barbarie austriaca che andava a bombardare le chiese luogo sacro della cattolicità eccetera eccetera ripeto detto da chi comandava in quel momento che sicuramente con la cattolicità e con la difesa delle chiese aveva veramente poco a fare cioè si ripete la stessa operazione a distanza di un'anno in questo caso nel caso di venezia la bomba effettivamente colpì la chiesa inadvertutamente provocando molto relativi nel caso di lovani una città uscì molto male dai bombardamenti da una parte dall'altra ma l'invenzione della distruzione della palladattare è una oggi si tratta di una fake news ponzon by parla di menzogne e di guerra ecco il passaggio interessante a cosa mirano poi vi farò un paio di altri esempi anche che riguardano l'ingresso in guerra del regno d'italia a cosa miravano queste esasperazioni da una parte o queste vere e proprie invenzioni dall'altra a dipingere il nemico come cattivo satanico perfido il peggio che si potesse immaginare insomma e a ritrare invece se stessi come i difensori dei diritti della serie noi non facciamo mai nulla di male se qualcosa di male fa qualcuno non si amano sono sicuramente gli altri da questo punto di vista all'interno del volume all'interno del volume si trova una sorta di decalogo il famoso decalogo di ponzon by che prego di di proiettare è la numero 3 delle diapositive propaganda di guerra lo schema di ponzon by la propaganda di guerra dimostra ponzon by segue uno schema pre costituito numero 3 propaganda di guerra schema di ponzon by ecco perfetto uno schema pre costituito che si ripete costantemente come vedremo poi da qualche altro episodio si ripete quando la gran bretagna entra in guerra a fianco della francia si ripete quando l'italia entra in guerra e ancora di più quando gli stati uniti si aggiungono le potenze belligeranti ed entrano in guerra naturalmente noi potremmo dire la stessa cosa mettendoci dall'altra parte se avessero vinto l'austria la germania probabilmente un meccanismo di questo genere lo analizzeremo anche sull'alto fronte questo non abbiamo dubbi su questo quello che stiamo descrivendo è uno schema di propaganda di guerra elaborato sulla prima guerra mondiale ma che può essere esteso a tantissimi altri conflitti il primo presupposto noi la guerra non la vogliamo bene ripeto ponzon by non è un pacifista e uso questa parola con rispetto è stato sottosegretario agli esteri della gran bretagna del british empire quindi quando scrive queste cose le fa a ragion veduta noi non vogliamo la guerra il sottinteso e la vogliono gli altri la guerra siamo costretti a entrare in guerra anticipo subito sull'italia ricordiamoci che nella propaganda ufficiale quella che sentiamo ancora adesso l'italia difese i sacchi confini della patria in realtà fu l'italia a dichiarare guerra all'austria quindi la guerra la volle l'italia la sola parte opposta è colpevole della guerra la diretta conseguenza del primo punto il nemico è intrinsecamente malvagio cioè è cattivo bene tant'è vero che spara addirittura sulle pare d'altare sui crocifissi e sulle madonna anche se non è vero ma glielo facciamo credere insomma e quindi assomiglia il diavolo noi difendiamo una nobile causa cioè i diritti diritti dell'uomo e dell'infanzia ecco il bambino belga con le mani tagliate e quindi non difendiamo i nostri interessi mancherebbe altro entriamo in guerra perché difendiamo i diritti umani il nemico commette atrocità apposta cioè lo fa volendo tant'è vero che per tagliare le mani a un bambino devi prenderlo e fare una sorta di operazione violenta insomma se noi facciamo del male a qualcun altro invece è un errore è un puro errore non voluto una disavventura è involontario il nemico usa armi proibite solo il nemico usa armi proibite noi che la guerra la stiamo facendo senza averlo voluto non le usiamo mai le armi proibite noi subiamo piccole perdite quelle del nemico sono enormi vi ricordo che un principio di qualunque paese che sia in guerra in qualunque momento in cui si è fatta una guerra è di non dare mai i numeri esatti delle perdite quanti sono le vittime quanti sono i prigionieri e quanti sono i feriti si danno numeri approssimativi si riducono i propri si ingrandiscono quello degli altri quando noi leggiamo una voce enciclopedica un libro di storia non dimentichiamo a me che ci basiamo su cifre ufficiali date molti anni dopo mai nel corso degli eventi anche quando l'italia entrò nella prima guerra mondiale i dati numerici non venivano forniti i giornalisti erano ammoniti a non fornire né numeri dei dati perché questo sarebbe stato disfattismo collaborazionismo e peggio ancora scrittura austriacante che era il peggiore degli insulti che si poteva sentire a quell'epoca artisti intellettuali sono tutti con noi anche se non lo sono si fa in modo che lo siano o quantomeno si fanno si silenziano quelli che non sono d'accordo con la guerra per esempio e si dà ampio spazio invece a quelli che sono favorevoli se qualcuno sono già all'ultimo punto se qualcuno invece mette in dubbio questa questione è un traditore un disfattista è un traditore e dall'altra parte insomma credo che lo schema di ponson bike che come vedete qui e come vi ho descritto è applicato rigorosamente la prima guerra mondiale sia uno schema davvero universale è il modello su cui funziona la propaganda di guerra poi credo che tutti noi possiamo rapidamente fare dei collegamenti con il presente non è tanto difficile e in qualche modo tirarne delle conseguenze è inevitabile questo adesso io però torno al volume al volume che ho già in qualche modo introdotto che è l'allegato numero numero due qui lo vedete in una delle copertine storiche interessante questo questo volume raccoglie una serie di dati storici di menzogne fatte circolare in Gran Bretagna e in Europa io partirei proprio dall'Italia vi ho citato il caso del bambino belga il caso della parra d'altare di lo vanio quella che riguarda l'Italia è proprio una chicca per quanto io poi ho fatto una piccola verifica in tanti testi di storia anche su internet per quanto sia possibile reperire questa informazione diciamo che non è fatta girare moltissimo a partire dal 1911 quindi guerra di libia ma in maniera pesante a partire dal 1914 quindi molto prima che l'Italia intrasse ufficialmente in guerra per creare proprio quel clima da maggior radioso favorevole alla guerra di interventismo la i punti d'imposo mai furono applicati tutti uno per uno ora tra le curiosità che mi hanno colpito di più c'è la la presunta lettera di Abraham Lincoln 1853 a Macedonio Melloni grande uomo di scienza eh filo risorgimentale il quale avrebbe scritto a Lincoln per lamentare le dolorose situazioni degli stati italiani e Lincoln gli avrebbe risposto ma in questa lettera di Abraham Lincoln eh il presidente il futuro presidente degli stati uniti d'America non si ferma a dire poveri italiani oppressi dall'Austria eccetera eccetera ma va un pochino più là e parla delle condizioni drammatiche degli italiani che vivono sull'altra sfonda dell'Adriatico per la precisione da Venezia fino all'Albania ma che strano insomma no e usa un'espressione geografica interessante che è Venezia Giulia ora Ponzombay che tra l'altro conosceva anche l'italiano ha un gioco facile a dimostrare carte alla mano che l'espressione Venezia Giulia non compare in nessun testo prima del 1866 è un'invenzione geografica la storia si fa anche attraverso la geografia Tolomei eh in Trentino su Tirolo lo insegna eh ora la definizione Venezia Giulia è sconosciuta alla storiografia al giornalismo alla letteratura italiana fino alla quella che è chiamata comunemente terza guerra l'indipendenza che in realtà nella storia è il conflitto eh austro prussiano no ecco fino al 1800 e dopo il 1806 si trova molto di rado Venezia Giulia come Triveneto sono concetti geografici particolarmente usati solo a partire dal primo novecento ad esempio Sidney Sonnino fu ministro degli est che firmò il patto di Londra usa questa espressione no è curiosa anche l'estensione geografica perché si va molto oltre l'Istria o l'Almania fino all'Albania capite no ora siamo alla vigilia della prima guerra mondiale e questo scritto che è chiaramente un falso è stato ampiamente dimostrato ho dato un elemento filologico che se un po' un sottolinea questo falso è pubblicato a più riprese da importanti quotidiani e riviste italiane l'illustrazione italiana il Corriere della Sera che è sempre in prima linea quando si tratta di sparare queste cose lo sappiamo no ed è creduto vero addirittura abbiamo una sorta di introduzione in cui dice che Mazzini tradusse di suo pugno questo documento dall'inglese dell'italiano piangendo e raccontando a Carducci e a D'Amici l'intenso affetto che il presidente Abraham Lincoln provava per la causa italiana capite siamo oltre la cattiva retorica a questo punto e siamo molto oltre la cattiva retorica ma la cosa che mi ha stupito molto è che certamente questo documento fu utilizzato per rinfocolare la campagna guerra fondaia nel 1914 fino all'effettivo ingresso in guerra nessuno ricordo che la prima guerra mondiale era assolutamente impopolare cattolici e socialisti non la voleva in Italia la stagante maggioranza dell'opinione pubblica non capiva perché bisogna entrare in guerra il patto di londra fu firmato a insaputa del parlamento che poi votò sì i crediti di guerra ma a cose già decise insomma quindi servivano materiali notate che vengono citati degli intellettuali quindi ancora a volte lo schema di ponzo ma gli intellettuali sono con noi addirittura sono con noi prima ancora che gli eventi accadano insomma con 30 40 anni d'anticico un falso clamoroso quindi un falso clamoroso messo in giro ad arte oggi nessuno lo ritiene per vero anche se con un certo stupore ho letto documentandomi anche per questa per questa conferenza un articolo su un quotidiano di una destra un po paleofascista se volete in cui viene citata ancora questa lettera come se fosse vera insomma quindi anche se a te non dicono che un falso è un apocrifo che poi chissà cosa voglia dire apocrifo in questo contesto sfioriamo davvero il ridicolo insomma no ecco e poi ponzo ma quando avete visto nella copertina quando cita i paesi sono tutti i paesi alleati della Campa Britannia nella prima guerra mondiale per ciascuno di essi da una serie di casi diciamo che lui conosceva bene l'Italia conosceva anche l'italiano ma non se la sente di trattare troppo l'Italia perché è talmente chiaro a lui che l'Italia è entrata perché era voluto la Bretagna insieme con la Francia che non si perde neanche tanto tempo si sofferma su questo episodio e su un paio di altri episodi che servivano a giustificare da un lato l'ingresso in guerra dall'altro le rivendicazioni italiane sulla sponda balcanica dell'Adriatico che effettivamente erano abitate da popolazioni ma vogliamo dirlo non tanto popolazioni italiane ma popolazioni venete che è una cosa un pochino diversa o istriane insomma no ecco scrivere che la costa d'Almata era stata italiana una bugia storica era stata veneziana al limite no era stata di San Marco al limite ma non certo del regno d'Italia fatto salvo certo l'esistenza di gruppi di gruppi a Trieste per esempio che erano favorevoli a nessuno del regno d'Italia ma questo è un altro discorso comunque si tratta di un falso clamorso sempre nell'ultima parte quando arriva agli Stati Uniti la prima cosa che fa come esempio è citare il bambino belga il bambino belga era un classico è tirato fuori da tutte le parti il bambino belga era la disumanità loro sono cattivi vivono i diritti umani diritti dell'infanzia per dire l'eco tremenda che ebbe negli Stati Uniti e poi racconta il celeberrimo episodio dell'usitania l'usitania come sapete è un transatlantico che dagli Stati Uniti doveva arrivare in Gran Bretagna che fu affondato da un uboto un sommergibile tedesco nella versione tedesca dei fatti fu affondato perché era stato avvisato prima della partenza che intorno all'isole britannica esisteva un blocco navale per cui le navi che trasportavano armi sarebbero state senza eccezioni affondate o colpite notiamo che dei verbali che nei verbali di imbarco e quindi quelli ufficiali che un po' un zombaicita effettivamente le armi ci sono si parla di 3,7 tonnellate di granate di innesti cioè bomba volante tant'è vero che non esplose perché colpita da un siluro ma perché carica di esplosivi poi c'erano anche i passeggeri ma questo fa molto pensare perché caricare un migliaio forse più di passeggeri su una nave piena di esplosivi insomma ecco qualcosina viene in mente qualche dubbio ci viene notare che l'usitania non fu la causa dell'ingresso negli stati uniti in guerra ma fu una scintilla emozionale perché l'eco chebbe sull'opinione pubblica fu ancora superiore a quello del bambino belga senza le mani insomma ma wilson allora presidente degli stati uniti nei documenti interni al governo ammise apertamente che c'erano armi munizioni e granate mentre nelle interviste sui giornali e alla stampa e anche nei discorsi pubblici negò e parlò di barbarie in cui i civili venivano colpiti notate quindi la consapevolezza con cui l'uomo politico va a mentire cioè dice una cosa da una parte sui documenti ed dice un'altra all'opinione pubblica perché la propaganda è la premessa da cui siamo partiti è una forma di comunicazione non autentica in cui l'obiettivo è trasformare cambiare la mentalità spostare il modo di pensare in maniera da rendere accettabile quello che accettabile non è e questo è uno dei punti essenziali della conferenza di questa sera rendere accettabile quello che accettabile non è nessuno va a dire adesso vi faccio vi porto in una guerra ma chi mai accetterebbe una cosa del genere bisogna creare gradualmente un clima per cui quell'idea di guerra che è percepita come lontanissima venga percepita invece come non solo come una possibilità ma una come una possibilità legittima e legittimata su questo ci aiuta però un autore molto di molto posteriore apposso che è un sociologo per la verità che spesso citato e in realtà poco studiato che overton sono alla numero 4 come illustrazione questa la possiamo anche far vedere come immagine aspettiamo un attimo che venga caricata la finestra di overton ecco benissimo overton lo vedete qui le nostre ascoltatrici come è capitato alle mie alunne ai corsi di meditazione linguistica diranno subito per l'embelom ed è vero insomma è morto in un incidente aereo abbastanza giovane precocemente è un sociologo che ha lavorato proprio sui cambiamenti di mentalità indotti cioè provocati attraverso meccanismi di potere e l'ha fatto con un esempio da manuale perché ha lavorato sul proibizionismo negli stati uniti poi capirete che c'entra in qualche modo la domanda è ma come si fa in un paese di forti bevitori a non tanto introdurre una legge che vieti l'alcol ma introdurre l'idea che consumare dell'alcol anche in forma moderata sia un abominio come si fa ecco questa è la finestra di overton allora come vedete sono dei gradi diversi cioè si deve insomma partire da una situazione che è quella reale in cui qualcosa è inconcepibile in inglese è impensabile addirittura no poi si dice sì però in questa situazione impensabile dobbiamo vedere che ci sono delle eccezioni no sono delle eccezioni perché insomma dai pensiamo al proibizionismo sì in sé per sé avere un bicchiere di vino un bicchiere di whisky è un grosso problema però poi ci sono persone che si rovinano la vita che distruggono la famiglia per questo e quindi e quindi passa l'accettabilità che si debba e si possa intervenire su questo e dall'accettibilità si dice no è ragionevole intervenire con delle leggi che vietino o limitino e a questo punto attraverso una campagna di stampa questa ragionevolezza presunta diventa qualche cosa di percepito diffuso e popolare ed è il momento poi per passare alla policy cioè alla legge io a questo punto posso introdurre una legge che vieti qualche cosa che fin paio di anni fa nessuno avrebbe mai pensato di vietare capite che se lo applichiamo al proibizionismo la cosa rimane un po lì poi bisogna sappiamo come è finito no finito male come quasi tutti i proibizionismi ma in lo schema di overton o finestra di overton in realtà può essere applicata a qualunque decisione di potere sulla società che intenda far passare una presunta verità che non è una verità è una decisione presa dal potere come accettabile legittima vedete che in piccolo nel 1914 15 successa la stessa cosa anche in Italia 1914 la guerra non la vuole nessuno d'annunzio va bene d'annunzio un paio di intellettuali certamente chi era il potere in quel momento no certamente il ministro silvio di sondina non solo lui insomma no certamente la vogliono gli inglesi e i francesi che sono già in guerra l'apertura di un alto fronte sarebbe stato prezioso ma all'interno dell'opinione pubblica del regno d'Italia non era voluta no allora si cominciano appunto a far girare queste immagini bambino belga si dice quello che sta succedendo ecco un popolo di cattolici come gli italiani che non può assistere indifferente al bombardamento della cattedrale di lovagno già detto tutto prima insomma poi sappiamo quanto interessasse al potere di allora il popolo di cattolici e così si comincia a rendere accettabile la possibilità che l'italia entra in guerra è accettabile perché naturalmente noi la guerra non la vogliamo però insomma dalla tappate adriatico ci sono intere città italiane che soffrono e desiderano semplicemente tornare a casa non parliamo del trentino ricordo che de gasperi de gasperi attenzione dopo la guerra disse che se si fosse votato in trentino nessuno avrebbe chiesto l'annessione all'italia de gasperi allora si comincia a considerare quindi ragionevole il fatto che si entri in guerra accettabile e ragionevole mentre un anno prima sarebbe stata un'idea assolutamente ripugnante no il diffusa in questo caso conta fino a un certo punto perché quello che conta è il diffusa sulla stampa cioè sui mezzi di informazione non quello che la gente pensa davvero no e a questo punto banca soltanto l'ultimo grado una volta che è considerata accettabile e ragionevole questa ipotesi è ampiamente diffusa bene possiamo anche andare in guerra se vogliamo fare dei collegamenti con il presente io non li vorrei fare troppo ma ricordo che l'articolo 11 della costituzione vi vieta la risoluzione delle controversie internazionali per mezzo della guerra quindi anche attraverso la consegna delle armi che sono uno strumento di guerra insomma no recentemente la germania ha protestato con la svizzera perché gli aubitzer tedeschi funzionano con munizioni in svizzera e la svizzera non li vuole fornire perché nei trattati di forniture militari per la svizzera e la germania c'è il diritto di fornire munizioni a paesi in guerra la svizzera è ampiamente schierata e sia chiaro come tutti i paesi occidentali però un po la faccia deve salvare almeno l'apparenza delle proprie leggi insomma ecco quindi siamo alla a una decisione assolutamente impopolare che è resa popolare nel senso inglese del termine cioè è diffusa è fatta passare attraverso gli organi di informazione e quindi diventa convincente in questo modo e le sue sono fede non c'è dubbio ma pensiamo proprio quello che già accennavo prima come si è radicata nella testa della gente a me è capitato di sentire consoli sindaci l'idea che abbiamo difeso i sacri confini della patria ma chi difende non dichiara la guerra di solito chi dichiara la guerra attacca insomma questa è una legge storica molto semplice non ci vorrebbe tanto ma evidentemente i meccanismi di manipolazione pubblica manipolazione pubblica uguale propaganda sono rimasti si sono consolidati nel tempo e hanno lasciato delle tracce così come oggi c'è ancora qualcuno che cita la presunta lettera di mazzini scrivendo che è un apocrifo di rincon scrivendo che è un apocrifo così ancora adesso noi sentiamo parlare di sacra difesa dei confini della patria quando qualunque libro di storia dice l'italia dichiara guerra l'austria ungheria tutto il contrario insomma e non precisamente questo che cos'è la propaganda di guerra la propaganda di guerra è una comunicazione non autentica una comunicazione che mira a manipolare esattamente come in psicologia un individuo forte manipola un individuo debole ai propri a proprio uso e consumo e manipola in base a un fine che non viene mai rivelato questo è il punto decisivo non si rivela la ragione per cui l'opinione pubblica viene manipolata perché l'opinione pubblica è considerata troppo stupida per capirlo o comunque inutile che lo capisca l'opinione pubblica deve partecipare nelle guerre purtroppo partecipa con centinaia di migliaia a volte con milioni di morti cosa che non ci auguriamo mai insomma e questo è il punto più drammatico della situazione mi potrei ancora attardare su altri esempi che fa ponzon by nel suo volume che tanto è gradevolissimo alla lettura chi mastica l'inglese se lo può scaricare anche gratuitamente l'edizione italiana è fatta molto bene in ogni caso e colpisce il fatto che sia recente cioè nessuno ha mai sentito il bisogno di tradurre un testo che in inghilterra aveva avuto la bellezza di 20 edizioni tra 1920 e 1940 poi chissà perché dopo 1940 guarda caso smettono di stamparlo poi lo ripubblicano la guerra finita e questo è anche un altro elemento che fa molto pensare perché un altro punto caratteristico della propaganda di guerra soprattutto nell'epoca in cui in media non sono più semplicemente la stampa o il cinema o il teatro ma sono media interattivi come i nostri uno dei punti decisivi della propaganda di guerra è semplicemente silenziare non dare neanche la possibilità di ascoltare le voci diverse che potrebbero essere in qualche modo riprese avere un eco attraverso quel dato quello spazio di libertà oggettiva che è la rete oggi rispetto a quello che avveniva in passato insomma io chiuderei la parte parte di reazione in questo momento chiedendo a giovanni darmi una mano proseguire ma poi anche magari qualche ascoltatore che vuole mandare qualche domanda attraverso la chat beh giuseppe hai detto hai detto praticamente tutto quello che si poteva dire per fare in modo quello che tu non vuoi fare il paragone con il presente ciascuna persona che ti ha ascoltato che ha riflettuto che è dotata di una sua capacità di riflettere questo sappiamo che statisticamente sono sempre meno ecco in grado di fare da sola ecco perché da quello che tu hai spiegato dallo specchietto anche della finestra di overton che non funziona soltanto per la propaganda di guerra o della propria non funziona soltanto nella propaganda per fare in guerra ma funziona su tanti altri argomenti in opera fino adesso non vorrei poi citarli io perché sono noi proveniamo da due anni di covi dove sono successi talmente tanti di questi casi per cui sappiamo che un domani che lo stato decide di fare qualcosa di impedirci di andare a lavorare per qualsiasi motivo potrà sempre dire adesso ma ma quando l'abbiamo già fatto per cui ci sono sempre dei motivi importanti quindi se qualcuno deve essere tenuto a casa e non si deve permettere di guadagnare lo stipendio è possibile farlo ormai nella testa delle persone la finestra di overton ha già prodotto questi risultati però una cosa io vorrei chiederti allora se noi facciamo questo ragionamento alla luce della storia e quindi alla luce del fatto che poi la prima guerra mondiale c'è stata in taglia c'è entrata ci sono stati 600 mila morti se non di più e quindi tutto quello che il potere voleva fare entrare nella società il potere l'ha ottenuto e allora non è molto bello questo paragone che facciamo con l'oggi l'oggi è un oggi molto particolare dove il piedino ce l'abbiamo nella guerra nucleare se proprio vogliamo dirla tutta anche se poi ci facciamo anche dei ragionamenti per cui sì ma non accadrà perché facciamo una serie di ragionamenti anche autoconsolatori ma di fatto c'è una superpotenza nucleare in guerra e guarda caso noi stiamo fornendo le armi e quindi secondo il codice alcune visioni del codice di guerra noi siamo in guerra contro una superpotenza nucleare anche secondo l'articolo 51 dello statuto delle nazioni unite al giugno perfetto quindi a un certo punto la consapevolezza di essere in guerra credo che ce l'abbiamo veramente in pochi o quantomeno una consapevolezza attiva che ci faccia dire stiamo attenti a quello che stiamo facendo perché molti magari scolorano le spalle non se ne rendono neanche conto allora se dobbiamo vedere la storia non finirà molto bene evidentemente anche questa questo ciclo questo ripetizione del ciclo oppure possiamo fare qualche cosa perché le persone non solo si accorgano di quello che stanno facendo che è già stato che è è stato così ben descritto nel libro ma anche diventino parti proattive per evitare che questo avvenga il mio pessimismo storico non mi fa essere molto tranquillo non so il tuo se è un pessimismo un ottimismo l'ottimismo della volontà l'ottimismo che ci spinge a essere qua questa sera a parlarci tu e io in pubblico la vedo come te anche io sono molto preoccupato anche perché noi viviamo in una società in cui l'informazione è sovrabbondante si dice no è sovrabbondante da recepita in maniera che molto passiva che se ne dica dovremmo distinguere tra i doveri di una piccola minoranza consapevole quello che stiamo cercando di fare noi è quello di una maggioranza che segue la corrente non sono ottimista però queste piccole minoranze consapevoli sono fondamentali come lo sono sempre state nella storia insomma a modo suo un po zonbai che vi ripeto fino a poco neanche sapevo chi fosse sì certo tutti citano una frase che è sua la prima vittima di una guerra è la verità insomma che tra l'altro è una frase d'imposto ma che ricalca in realtà un'espressione biblica cioè la la menzogna la violenza figlia della menzogna posso avere una situazione privilegiata certo molto privilegiata però anche lui è dato controcorrente insomma in una gran britannia in cui il potere voleva la guerra non c'è dubbio insomma anch'io non sono ottimista non sono ottimista però continuo a credere che un po come il giapponese sull'atollo la la battaglia vada combattuta insomma vada combattuta attraverso la consapevolezza che forse speriamo sia più contagiosa di quello che il potere vuole farci credere potere vuole come se ci dicesse ma cosa credete di fare voi quattro gatti piccolini rispetto a me che ho in mano televisioni strumenti enormi e non glielo lasciamo dire andiamo avanti lo stesso andiamo avanti lo stesso con credendo fortemente o sperando insomma che nell'essere umano ci sia ancora uno spazio di consapevolezza almeno in chi vuole quanto meno potremmo dire ci abbiamo provato insomma ecco stasera siamo qua a farlo come in tante altre situazioni so di non essere molto incoraggiante in questo momento non lo sono perché anch'io sono un po pessimista vedendo il fatto che la storia alla fine si ripeta altrimenti una riflessione che facevo tra me e me non è che la propaganda di guerra è stata inventata dalla gran bretagna per la prima guerra mondiale sempre esistita insomma tu non va a prendere il de bello gallico di cesare certo gli strumenti sono cambiati no ci presenta i celti o i galli come dei barbari che facevano delle fascine ci mettevano dentro i prigionieri di guerra e li bruciavano vivi insomma perché cesare doveva giustificare una guerra a casa sua anche anche lì l'opinione pubblica romana evidentemente non era tutta a favore sia delle perdite umane che dei costi economici della campagna che cesare stava facendo per i fatti suoi perché alla fine è questo insomma ecco quindi la come la propaganda di guerra è sempre esistita ma sono sempre esistiti anche resistenti però e sono sempre esistite anche persone consapevole che sono andate controcorrente controcorrente credo che nel nostro piccolo possiamo almeno essere fieri di essere in questa piccola minoranza non è proprio poco insomma io a giovanni non ho mai nascosto la mia stima perché abbiamo lavorato insieme tanto tempo giornalisti che fanno carriera il 90 se sono opinionisti è preoccupante la cosa insomma no ecco se a parte i corrispondenti in guerra ne conosco di bravissimi anch'io lì però uno rischia la pelle quindi non tutti ci vogliono andare ma chi si muove per interesse ma 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 sono meglio essere nella piccolo dice leopardi meglio essere nel piccolo nucleo di resistenti e consapevoli scusami ti faccio una domanda io adesso se non ti spiace diversa anche se quest'ultima parte delle cose che hai detto secondo me vale la pena poi di essere ripresa sul porto un attimino da un'altra parte poi dopo però sarebbe interessante tornare a parlare di quest'ultimo aspetto c'è anche un altro aspetto in questa facilità con cui viene applicata la finestra di overton o comunque i pensieri che poi ci hai descritto oggi che stanno alla base di questo libro di cui ci hai parlato no ce ne sono due fondamentalmente la facilità con cui accetta la gran massa delle persone a taglio direbbe la psicologia delle menti associate no delle cose che sono delle evidenti falsità che tutti sanno che sono falsità ma siccome tutti fanno finta che siano verità vengono accettate tramandate l'esempio della prima guerra mondiale è perfetto la prima guerra mondiale è una guerra di aggressione del regno d'italia contro un paese alleato che era l'austria e tutti gli storici documentano con chiarezza che l'italia patteggia tratta come le due parti per vedere con chi gli conveniva entrare in guerra dopodiché si cambia di campo e passa con gli alleati no dall'alleanza che aveva precedentemente eppure tutti la vedono come una guerra di difesa della patria con contro un invasore che non c'era che non esisteva perché era un paese alleato e questo malgrado si sappia benissimo lo legge anche su wikipedia non c'è bisogno di andare a cercare degli storici sovversivi che tirano fuori idee balzane no cioè è una cosa nota risaputa e conosciuta le maestre puntualmente lo tramandano ai loro bambini gli raccontano delle cose false sapendo che sono false cioè dicendo che la prima guerra mondiale è stata una guerra di difesa dei confini della patria contro un aggressore questo è un primo aspetto un secondo aspetto più se vogliamo sottile è questo la finestra di overton per essere applicata ha bisogno di trovare un appiglio partiamo dal punto 1 impensabile non si può fare non se ne parla neanche ha bisogno di rompere questo muro trovando una testa di ponte un qualcosa che comincia a far pensare che ciò che per le generazioni precedenti erano era qualcosa di impensabile adesso si può cominciare a prendere in considerazione magari non vale tanto per l'esempio della prima guerra mondiale di cui tu hai parlato o negli esempi più recenti del tutto analoghi di situazioni simili vale per altre cose penso adesso non entriamo in temi che sono fuori dal tema di oggi no però nel cambio in un certo modo di percepire il modo di vivere se vogliamo la normalità della vita non voglio entrare in tematiche che poi ci portano lontano no però ha bisogno di un appiglio di rompere un qualcosa che è un qualcosa di solido di saldo a cui le persone i popoli sono ben aggrappati e che deve essere in qualche modo infranto bisogna aprire una breccia per riuscire a far partire il meccanismo della finestra di overflow sì sì sono assolutamente d'accordo può essere il caso pietoso che suscita emozionalmente qualche cosa o può essere una situazione particolare comunque assolutamente sì e serve in ogni caso per decisioni così importanti il passaggio cito un altro sociologo mi si sente ho paura che sia andata via la voce ti sento correttamente ti vedo correttamente perfetto serve un'altra cosa molto importante che è il passaggio dalla struttura comunità e la struttura società noi continuiamo a parlare di società ecco in realtà c'è un autore importante che ferdinand tönis è un sociologo uno dei pandi della sociologia dei primi del novecento della fine dell'ottocento primi del novecento carlino tönis descrive proprio la nascita della modernità come il passaggio dalla struttura comunitaria della società il passaggio successivo era cosiddetta società aperto villaggio globale oggi tanto esaltato no paradossalmente il villaggio premoderno che è una struttura comunitaria è più in grado di difendersi dai meccanismi della finestra di overton perché esistono dei delle radici degli elementi di condivisione la società e persona trova una società sradicata in cui mancano gli elementi di condivisione comunitaria e quindi la propaganda al gioco facile a colpire a diffondere certe falsità attraverso appunto la apertura di queste finestre creando si chiama proprio la creazione di una coscienza collettiva se la devo creare vuol dire che è stata costruita a tavolino insomma il gioco facile di oggi che ci spacciano per libertà quello che in realtà è un atteggiamento passivo noi recepiamo immagini modi di essere modi di pensare ci pensiamo uso un noi collettivo originali in realtà ricacchiamo quello che stanno facendo un po tutti perché ci viene in posto fondamentalmente questo insomma no è irreversibile questo passaggio torna anche un po all'obiezione di di joan che è un po anche la mia un po la tristezza no questo passaggio da struttura comunitaria struttura sociale globale il punto è che in realtà all'interno della struttura sociale globale poi possono rigenerarsi delle piccole strutture comunitarie e queste a loro volta sono spazi di resistenza che è quello un po che stiamo facendo noi che fanno anche si stanno associando di tanti altri luoghi naturalmente chi comanda che ha il potere che il controllo dell'informazione non ha interesse a diffondere notizie circa queste cose insomma no o circa questi processi quindi sì allora perché la finestra di oberton funzioni servono delle crepe servono dei casi particolari spesso dei casi pietosi però serve anche un sottofondo un sottofondo generale una sorta di musica di basso continuo che è appunto la trasformazione l'abolizione delle strutture comunitarie in favore di una società che si autodefinisce aperta no si autodefinisce aperta ma che è aperta a che cosa è aperta chi comanda alla fine insomma ecco non so se ho risposto ma questa è una riflessione che mi veniva da fare aggiungo solo una piccolissimo piccolissimo punto sulla questione delle verità inaccettabili c'è stato qualcuno che ha detto se tu vuoi che qualche cosa sia una cosa che tu sai falso che sai essere una menzogna vuoi che sia creduto e sia creduto fino in fondo è diffuso la devi sparare grossa perché se la menzogna è piccola non ti credono se è grossa ti vengono dietro questa frase è dal mein kampf di adolf hitler e dovrebbe farci pensare insomma la menzogna deve essere grossa perché se è piccola la smascherano subito ma se è grossa non può non essere accaduta insomma io non vi vedo spero che voi vediate me sì 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 ti vediamo e ti sentiamo molto bene perfetto uno dei casi degli ultimi due decenni lo sappiamo è la fialetta d'antracce esibita da colin powell ah ecco diventato quello è diventato un po una sorta di paradigma e ci possiamo citarla quante volte vogliamo ma chi è convinto dell'infallibilità degli stati uniti non cederà un millimetro della sua fede nemmeno di fronte al ricordo di quel falso storico tremoroso che evidentemente è servito ben a poco no le armi chimiche di saddam e quanti altri ne abbiamo viste perché in effetti la storia non è affatto magistra vita e maestra di vita insomma ma per nulla non è mai stata e non lo sarà perché fa più comodo accomodarsi su queste verità preconfezionate che fare la fatica di elaborare o di contestare o di mettere in dubbio insomma si elogia tanto il dubbio però poi quando bisogna esercitarlo il dubbio lo si lascia nel cassetto io un'altra cosa aggiungerei un altro esempio clamoroso secondo me magari mi sbaglio è quello che è successo in siria no dove assad sta vincendo la guerra e lui cosa fa sta finendo di far fuori i terroristi e cosa fa bombarda con armi chimiche un asilo no è questa cosa è passata in televisione e la gente ha pensato questo intenzionalmente ha bombardato con un asilo no l'ha bombardato l'ha mi sembra che uno che ormai ha vinto la guerra bombarda con armi chimiche proibite per farsi tirare ad osso tutto quello che c'è da tutto il mondo mi sembra ragionevole un altro esempio adesso non entriamo non vorrei entrare in temi che sono fuori da 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 temi di attualità che sono fuori dalla tematica molto più ampia molto più elevata se posso di oggi ma per esempio quando è caduto quel missile in polonia qualcuno stava provando a far credere che i russi per distruggere un trattore di una fattoria in polonia stavano scatenando la terza guerra mondiale cioè una persona di buon senso dice ma forse c'è qualcosina che non va poi la verità è uscita ma è uscita molto prima che fosse ammesso perché chi si intende un po di armi ha riconosciuto i pezzi del missile hanno detto no questo è un missile antiaereo di un corto raggio quindi è un errore di che è finito lì per sbaglio ma l'hanno tirato di ucraina evidentemente per sbaglio è andato fuori rotta ecco questi qua sono gli esempi che hai fatto tu sono assolutamente in linea con i dieci punti di ponson vai la criminalizzazione eccetera eccetera sono punti decisivi quelli assolutamente perché sono lo schema di qualunque tipo della propaganda di guerra c'è quando ci sono quei dieci punti lì uno dopo l'altro aggiungo che qui oltre a essere cattivi sono anche parecchio scemi devo dire perché quando si cerca di spiegare che non si sa chi stia bombardando se è vero che stanno bombardando la centrale nucleare di shaporiscia allora io mi dico ma i russi che sono dentro nella centrale perché l'hanno occupata loro e poi sono così scemi da bombardarsi da soli e far saltare in aria la centrale con dentro loro stessi io prendo atto che forse abbiamo fatto addirittura un passettino più in là non volevo appunto spostare dibattito su questo però se è vero che si cerca di far passare il nemico per cattivo malvagio satana è anche vero che ci sono dei casi in cui lo si fa passare anche per scemo allora c'è da domandarsi sull'intelligenza anche di chi assorbe queste informazioni pseudo taglio queste dati della propaganda e non si pone nemmeno in dubbio in effetti la cosa che mi sta preoccupando che credo che sia un fenomeno che uno storico come te dovrebbe ben conoscere perché questi fenomeni di analfabetismo oggi lo chiamiamo così analfabetismo galoppante funzionale di solito avvengono in società in estremo declino quindi io credo che la storia i segni che l'impero romano giunto al termine aveva dei perfetti deficienti sia a livello di imperatori sia a livello di popolazione che evidentemente la vita tutt'altro che a pensare anche alla propria sopravvivenza e io credo che ci sia un corso e un ricorso e ai noi non per buttare ancora più paura se vuoi alla mia considerazione poco timista di prima ma vorrei anche un pochettino cercare di capire se adesso abbiamo aggiunto questo piccolo particolare non sono solo cattivi negli amici sono anche scemi e noi invece intelligenti che ci caschiamo assolutamente d'accordo non credo che ci sia nulla da aggiungere a queste affermazioni il declino coincide con la stupidità stupidità non abbiamo la stupidità collettiva che è una forma della massificazione la differenza tra popolo e massa è tutta qui la massa tende alla stupidità il popolo tende all'autoconservazione due cose non sono conciliabili in nessun modo ecco è stato molto interessante anche la considerazione che il fatto sulla decostruzione dei legami sociali di base per cui di solito almeno quanto riguarda la mia critica che esprimo diverse diverse forme quando ho nell'occasione è la decostruzione legata alla decostruzione dei dei popoli delle comunità in funzione della creazione del consumatore unico quindi della creazione dell'uomo indistinto perché è più facilmente preda degli appetiti del neoliberismo oggi lo chiamiamo così un tempo non era così era il liberismo non neo però quello aveva un senso perché era basato sulla produzione del neoliberismo sulla speculazione finanziaria quindi decisamente peggio ecco però non è più nemmeno il problema di vedere soltanto la creazione del consumatore indistinto dai poli all'equatore e in tutti tutti i fusi orari ma la decostruzione anche dei legami sociali che possano essere un freno all'inculcazione della propaganda pervasiva e ormai senza freni anche di logica e di intelligenza quindi c'è questa doppia valenza dell'interesse da parte delle elite dominanti qui poi passiamo per cospirazionisti ma sono i dati del sole 24 ore non certo dei cospirazionisti quelli che vedono il ristretto numero di famiglie detenere la maggioranza delle ricchezze mondiali sono dati del sole 24 ore quindi cerchiamo di ritornare un attimo più di per terra se vogliamo leggere i dati e utilizzare la nostra logica e non la logica invece dei nostri padroni sì assolutamente la questione meriterebbe un'intera serata solo questo la decostruzione di legami comunitari storici del concetto stesso di tradizione come premessa per la realizzazione di questo modello di società che si pretende aperta ma che in realtà è aperta al dominio di pochissimi poi qui è perfetta la descrizione poi bisogna distinguere tra una un'ottica autenticamente liberale il neoliberismo spinto che mira semplicemente a creare dei consumatori nient'altro e tra l'altro in un'ottica di neoliberismo spinto lo stesso la stessa libera concorrenza è un pericolo perché si tratta in realtà di monopoli di potere così come esistono i monopoli informativi e così torniamo un po alla alla tema della dell'incontro di questa sera i monopoli informativi la propaganda di guerra è possibile se esiste un monopolio perché se esiste un reale dibattito questo non è possibile in italia il dibattito sulla prima guerra mondiale è stato possibile parzialmente nel 1914 ma già a partire dal marzo aprile del 1915 l'opinione pubblica era monopolizzata da un'unica linea che era quella dell'interventismo chi era contrario veniva messo a tacere fosse anche papa benedetto quindicesimo di cui ricordo che cadorna voleva ottenere la fucilazione per disfattismo no poi questo è il vero volto del potere che dice tu sei libero però sei libero se fai quello che ti dico io insomma nel momento in cui è possibile un minimo di dibattito no le cose vanno diversamente e quindi il concetto di monopolio non è così estraneo un concetto certo andrebbe la pena di affrontarlo in un'altra serata però oggi stiamo parlando di propaganda di guerra cioè di monopolio informativo finalizzato alla costruzione attraverso la finestra di overton di un clima a favore alla guerra questo non ci fosse questo monopolio informativo ma ci fosse un dibattito serio in cui c'è un pro un contro sempre costantemente in ogni situazione e chi è contro non venisse demonizzato le cose sarebbero un tantino diverse insomma no questo credo che sia attualità strettissima insomma oggi basta dire quello che avete detto voi per essere tracciati di essere tutti gli anni anche se non è assolutamente vero è così così come nel 1915 si era tracciati essere austriacanti se si diceva di essere contro la guerra bastava quello siamo contro la guerra quindi siete austriacanti a peggio vedere infami ecco a questo proposito mi servi quasi su un piatto d'argento una domanda che ti volevo fare tu prima hai citato con rispetto i pacifisti allora io intendo usare nella considerazione che ti voglio esprimere anch'io la voglio usare la figura del pacifista non dell'opportunista politico ma della persona veramente interessata per questioni etiche religiose o per le sue visioni che possono essere anche anarchiche socialiste ecco persone comunque che possono essere veramente interessate a sviluppare una cultura della non violenza oggi la chiamiamo o comunque della non belligeranza come strumento di risoluzione delle controverse internazionali e non a caso ho citato la costituzione vigente della repubblica italiana teoricamente vigente teoricamente ecco però si sa che queste persone non sono mai state molto ascoltate quelle vere che pacifisti veri anche nel negli ultimi 30 40 anni il pacifismo era una moda era strumentalizzato oggi sembrerebbe che i pacifisti siano spariti io ti posso dire di no perché anche per questioni professionali ho a che fare con persone pacifiste nel senso non violente nel senso migliore del termine però diciamo quelle grandi ondate che venivano mosse come burattini e venivano portati in piazza con le bandiere arcobaleno io ne ho qui una tra l'altro adesso non la usa nessuno la vorrei usare io guarda tutto per anche per poi la prendo perché ce l'ho qua dietro ecco detto questo ma oggi i pacifisti quelli veri hanno qualche lezione da imparare dai pacifisti o dei non interventisti della prima guerra mondiale anche alla luce non soltanto delle battaglie non violente io utilizzo la terminologia che hanno scelto loro ma alla luce della della sconfitta ai noi e torno a ribadire la sconfitta della prima guerra mondiale quando persero l'italia in guerra ecco che cosa insegna anche per un vero momento movimento non volento oggi se ce ne sarebbe davvero bisogno la storia che andò male cento e vent'anni fa e dovrebbe insegnare dovrebbe insegnarsi tantissimo come strategia come modo di essere come modo di porci dovrebbe aiutarci a comprendere anche la situazione di emarginazione in cui veniamo a trovarci quando combattiamo per la pace e la maria di insulti che ci buttano addosso immediatamente ecco gli austriacanti con i nomi che poi seguono a ruota nel corso del tempo e d'altra parte la la propaganda la propaganda di guerra è proprio perché la propaganda di guerra è violenta cioè chiaro che non accetta il dibattito no dobbiamo partire da lì ecco perfetto sai che lo vorrei mettere anch'io quella bandiera un tempo mi era un po' antipatica ma adesso la metterei fuori volentieri proprio perché è diventata antipatica ti comanda insomma dovrebbe dico insegnarci questa cosa fondamentale che non dobbiamo aspettarci nulla ti comanda cioè non chiedere a loro di darci uno spazio per dire la nostra è come è come buttarsi in bocca al nemico i lupi mi sono simpatici stavo dicendo cappuccetto rosso in bocca al lupo ma mi sono troppo simpatici evito il paragone insomma ecco questo lo dovremmo imparare da questo punto di vista certo che bisogna leggere e studiare vero pacifista non è uno che tira su va bene tira sulla bandiera però non basta quello no bisogna leggere studiare documentarsi ma non tanto per entrare nei dibattiti tanto non ci lasciano parlare qui di tanto ma per essere consapevoli noi e contagiare quanto più possibile e se possibile anche contrastare poi nel mestiere del giornalismo questo è particolarmente difficile perché per poter scrivere su un giornale devono darti uno spazio siccome i giornali c'erano in mano quasi tutti loro diventa veramente veramente difficile se mi permettete però mi è venuta in mente una curiosità che fiora la barzelletta all'interno del del testo di ponson baino a un certo punto c'è un capitolo dedicato al famoso indo tedesco deutschland liberale germania soprattutto e in cui si si ricorda che era stata tradotta e storpiata non nel senso si diceva la germania soprattutto il significato originale dell'inno ponson baino riconosce non è filo tedesco per nulla anche se in realtà come sapete essendo stato nella famiglia reale inglese la famiglia reale inglese era di origine tedesca insomma viene stoppiato dicendo la germania che deve comandare su di tutti ma si arriva di più perché quando la cosa arriva negli stati uniti bambino belga con le mani tagliate in lusitania sulla stampa americana cominciano a dire ecco i tedeschi sono pesantemente atei gli stati uniti erano puritani insomma lo sappiamo no tant'è vero che cantano in denburg è il nostro dio che era la storpiatura di un himno di lutero che dice invece eine festeburg ist unser gott è una solida torre un solido rifugio è il nostro dio festeburg arriva tradotto in denburg era il premier di allora no ma guarda questi tedeschi sono tagliano le mani ai bambini buttano le bombe sulle pade d'altare e cosa fanno adorano il loro presidente guarda caso criminalizzazione totale dell'avversario e queste strategie dobbiamo studiare noi quando vogliamo difendere la pace perché le stanno usando ancora adesso le continuano a usare ancora adesso io non ho citato tutti i capitoli un libro da leggere si legge veramente bene ma c'è persino un capitolo perché tale tante cose sono notizie talmente false da essere imbarazzanti oggi no si raccontava di un drappello di soldati canadesi crocifisso sulla marna dai tedeschi è fatta circolare la notizia ora questo drappello di cadere a tutti vivissimi erano in servizio in india non sulla sulla linea europea però la notizia fu diffusa anche in italia insomma queste sparate che poi diventano imbarazzanti per chi le ha provate per chi le ha le ha scritte le ha fatte le riferite vanno studiate e ripetute bisogna guardate che nella storia bisogna dirlo si è mentito si è continuamente mentito si è fatto della menzogna la parodia della storia la storia racconto ma il racconto menzogniere una brutta cosa no fa niente se gli altri hanno mezzi noi continueremo a dire si mente si mente si mente e questa era un'arma importante no smascherare dire che il re è nudo no poi se tutti vogliono continuare a dire che il re è vestito va bene facciano pure no insomma mai fai nudo e bisogna dirglielo diciamo che eccolo qua dicevo non me la stai tirando poi fuori le paragoni con l'oggi perché quello che tu racconti sembra veramente la cronaca che noi stiamo vivendo non dici altro che la cronaca lì c'era il bambino con le mani amputate e adesso un po meno ma c'è stata una fase nella narrazione ufficiale del conflitto in corso per cui ogni mattina io ci ho fatto caso ogni mattina si apriva con la cronaca di dei russi che bombardavano un asilo allora io mi dico ma quanti asili devono avere gli ucraini se ogni mattina la notizia è hanno bombardato anche un asilo ecco questo era una situazione classica un po come Assad che gaso i bambini l'hai ricordato prima no ecco ma io mi dico ma è vero che la scuola non insegna più pensiero critico la mia generazione anche la tua è nata e si è in un periodo in cui la scuola ci piacesse o non ci piacesse ma ci insegnavano pensiero critico e questo insegnamento ci è rimasto ci insegnavano che l'obbedienza non è più una virtù con Don Milani ma io mi chiedo ma tutte le persone che celebravano gli scritti di Don Milani che pure avevano un senso storico e anche comprensibile se vogliamo tu non sarai molto d'accordo io da esterna non lo so però io mi dico ma che fine hanno fatto dove si sono rifugiati e allora la cito sempre compagno di scuola compagno di niente ma ti sei salvato del fumo delle barricate o sei entrato in banca anche tu e venditi la maggior parte sono entrati in banca qualcuno in parlamento ma ci aveva visto appena dieci anni dopo il 68 cioè visto giusto allora poi è entrato in banca anche lui ma scusatemi la digressione però di fatto la domanda continua a corsi ma che fine hanno fatto i rivoluzionari di ieri oggi sono tutti pompieri e spengono le nostre rivoluzioni che vorremmo io ho recentemente pubblicato ho recentemente pubblicato sul sussidiario.net un articolo in due puntate un po lungo sulla trasformazione che è avvenuta nei verdi tedeschi che erano un movimento non solo ambientalista ma anche pacifista fortemente pacifista e che oggi sono invece un movimento guerra fondaio apertamente schierato per la guerra sia pur con molte contraddizioni e lo erano già qualche anno fa tra i loro leader c'era stato joska fischer che è stato ministro degli esteri della germania che ha portato la germania a intervenire sulla serbia non dimentichiamolo che si è schierata a favore dei bombardamenti della nato sulla serbia lui che era stato sulle barricate si era definito maoista addirittura sessantottino no eh qui è interessante questa metamorfosi perché naturalmente riguarda anche noi cioè riguarda in germania questi fenomeni sono sempre più estremi che in italia va detto eh ecco eh però riguarda anche noi perché questo passaggio dei contestatori di quell'epoca a posizioni di potere e quindi anche il ribaltamento dal pacifismo alla guerra è interessante probabilmente una delle ragioni è che quel tipo di pacifismo non era realmente fondato eh la lotta per la pace lo dicevi tu prima ha bisogno di fondamenti seri importanti non possono essere solo una reazione emotiva e comunque sia difficile come faceva joska fischer nel 68 essere pacifista e tirare le molotov insomma non c'è una contraddizione in termini perché il pacifismo è un violento eh anche se io personalmente considero più che legittima la difesa purché legittima appunto come si dice insomma non mi considero un pacifista radicale ma sicuramente tirare le molotov eh in nome della pace era una contraddizione palese perché probabilmente questa contraddizione si è risolta in favore del tirare le molotov che nel caso di oscar fischer era tirare le bombe sulla povera belgrado anche lì anche lì eh ricordiamo il titolo del corriere della sera no? Tiluvio di missili su belgrado no? Quella andava bene insomma eh sempre corriere della sera distrutta la centrale elettrica di belgrado quella andava bene chissà perché insomma no? Eh sì vittime collaterali qualche migliaio compreso un qualche centinaia di bambini quello andava bene insomma no? Ecco poi come hai detto tu Gioan qui è un problema anche di testa insomma non possiamo eh quando quando qualcuno è completamente sradicato purtroppo questa è la condizione di moltissimi oggi eh e pensa come massa queste contraddizioni non le coglie non le coglie non c'è niente da fare gli andrà bene gli andrà bene quello che gli dicono insomma le armi chimiche batteriologiche in in Iraq che non c'erano naturalmente perché così vuole il padrone si dice no? Ecco sì poi mi veniva in mente una battuta che era più che altro eh collegata alla ai social perché se è vero che teoricamente avremmo la libertà di fare conto di informazioni sui social poi non è non è affatto vero perché sappiamo molto bene che i social sono nelle mani di un monopolista o di un paio di duopolisti e quindi quando loro decidono che un argomento viola gli standard della comunità non c'è niente da fare uno può essere educato però se hanno dei censori che hanno degli ordini scatta la censura e a me veniva in mente visto che qualcuno trova da dire giustamente alla polizia morale l'iran che controlla che le donne abbiano il velo indossato correttamente qui abbiamo la polizia morale che controlla che le nostre parole abbiano il velo indossato correttamente ed è la stessa cosa solo che noi non ce ne accorgiamo neanche perché ci siamo talmente dentro che visto che questa polizia morale è ammantata di buoni sentimenti un po come il dio del islamici sciiti nell'iran e ci siamo talmente dentro che non ce ne rendiamo conto e allora bene fanno a evitare che quelli dicano le cose brutte no ecco poi se esisteva almeno nel concetto di la libertà di espressione chi l'ha più vista e quindi è logico che penalizzare il dissenso con la polizia morale che controlla il velo delle parole è il primo atto che ci impedisce di capire il grande inganno della propaganda che tu hai così ben descritto e hai ricordato che era lo stesso anche al tempi di giulio cesare col de bello gallico io sono convinto che anche nelle guerre degli assiro babilonesi o nelle guerre comunque degli egiziani il concetto sociologico era esattamente lo stacidentico dovrebbe interpretare qualche qualche papiro egizio per capire se erano giornali di pro se era il corriere della sera la repubblica dell'epoca dovrebbe cercare di capirlo compito degli storici certamente la polizia morale eh in qualche modo c'è sempre stata nelle strutture sociali più che comunitari però è più violenta eh perché la struttura comunitaria tende istintivamente edificare certo identifica la causa con se stesso però c'è un noi e c'è un voi no è un molto marcati dal punto di vista etnico culturale linguistico religioso tradizionale però la questione della polizia morale sui sui media è interessantissima perché è la novità che noi abbiamo rispetto allo schema di Ponson Bay quando Ponson Bay scrive il suo libro la comunicazione avveniva attraverso i giornali fondamentalmente un po' il cinema il teatro era comunque un fenomeno dell'elite e la musica la musica sì è quella cominciava che era un elemento decisivo comincia la radio quindi comincia anche le prime forme musicali popolari oggi siamo andati molto oltre però resta vero il discorso del controllo della polizia morale perché si dice sì entra nello spazio di libertà però uno spazio di libertà per nicchie bene noi stiamo facendo una trasmissione che sicuramente è contocorrente in questo momento è uno spazio di nicchia che bisogna raggiungere che bisogna in qualche modo conquistare e diffondere all'interno di una nicchia che si spera sempre più largo perché i grandi strumenti sì inevitabilmente stiamo usando facebook in mano monopolista potrebbe spegnerci in qualunque momento insomma lo sappiamo anzi è già avvenuto questo non è che potrebbe è già avvenuto insomma spazio di monopolisti è comunque lo spazio del potere con la p maiuscola ricordo che sì il controllo dei rimedi avviene attraverso le società monopolistiche che le controllano insomma proprietari ma anche attraverso determinati stati certamente non l'italia però l'unione europea per esempio ha bandito alcuni siti ora con tutto il bene o il male che si può volere la possibilità che ci è negata di leggere sputnik o rush day una limitazione alla mia libertà insomma quanto meno la mia libertà di informazione la cina come sappiamo è in grado di controllare anche google o meglio probabilmente si è anche messa d'accordo con google perché pecunia non ho let i soldi non puzzano quindi questo questo interessante questo mettersi d'accordo di grandi monopolisti finanziari economici capitalistici con modelli che sarebbero di che sarebbero è di capitalismo di stato come quello cinese insomma no alla fine il risultato comunque è sempre quello una polizia morale che viene a dirmi cosa devo leggere cosa devo vedere e io che resisto e vado avanti a leggere a vedere che voglio leggere e vedere perché lo ritengo opportuno guarda una curiosità ce l'ho proprio qui io avevo installato su questo mio smartphone la la app di rt rush today che è uno dei siti che sono stati vietati allora la cosa clamorosa non so se riesco a farlo vedere è che adesso si vede allora mi arrivano le notifiche quindi di rush di rt mi arrivano le notifiche sulla nella nel feed no per cui io so che c'è una un articolo di rt riesco quantomeno a leggerne il titolo però guardate se io clicco che cosa succede se riesco a farvelo vedere eccolo qua impossibile raggiungere il sito per cui adesso non compare neanche quello che mi compariva a volte veniva proprio una brutale forbidden e già quella la diceva anche lunga sul tipo di comunicazione che mi giungeva a me sicuramente eretico che volevo andare a leggere qualcosa di proibito perché la polizia morale dell'unione europea non permette che si leggano evidentemente fonti che non siano approvate dalla dal ministero della della prevenzione del vizio e della promozione della metà assolutamente sì ecco la vedo centrata ecco a me viene una rabbia istintiva appena vedo la notifica di rt ci clicco e di non poterla leggere ma non perché io aderisca a quella informazione ma perché io da giornalista ho il diritto e avrei anche il dovere se fossi un giornalista deontologicamente orientato di dare conto anche di quelle fonti perché se dobbiamo fare la storia e la cronaca dobbiamo conoscere tutte le campane e io mi chiedo ancora una volta in che razza di regime sono costretto a vivere se sul mio smartphone strumento di libertà così dicono mi compare una notifica ma non posso leggere la notizia che l'ha generata se posso aggiungere una cosa e questo è giustissimo ma c'è anche un altro aspetto questo modo di intendere la libertà o meno di visualizzare di ascoltare di capire e purtroppo va detto largamente condiviso oggi dalla popolazione cioè se questa trasmissione di oggi fosse sentita da non dalle persone che ci seguono che sanno chi siamo che sono persone che ragionano che ovviamente vanno un po oltre quello che lo standard diciamo della percezione del mondo che che oggi è comune gran parte delle persone comuni penserebbero che una trasmissione filo russa no cosa che fa sorridere no però veramente la maggior parte delle pensioni persone penserebbe che stiamo dicendo queste cose perché noi sotto sotto ci hanno pagato ci ha pagato Putin no c'è le finanze della nostra associazione cose di questo tipo vabbè è triste no però in questo purtroppo il non so come chiamarlo mi viene da dire regime ma comunque lo stato in cui viviamo ha avuto ampiamente successo attraverso va detto la scuola che ha condizionato tantissimo il modo di pensare delle persone in modo crescente adesso so che Giuseppe è del settore per cui magari anche su questo gli volevo chiedere cosa ne pensano rispetto ai nostri anni noi siamo ahimè per persone del più o meno della metà dello scorso secolo no come come data di nata abbiamo fatto le nostre scuole soprattutto elementari che sono largamente le più importanti per definire il pensiero di una persona in tempi in tempi in tempi remoti in cui le cose ci vengono raccontate in un altro modo sempre comunque molto orientato al diffondere un certo modo di pensare ma meno in maniera scientifica meno in maniera pesante come oggi no e quindi con un po di senso di anarchia di libertà così riuscivi a venirne fuori e qualcuno di noi si è salvato è riuscito a vedere che noi tutti che siamo qua più 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 molti altri sperano ma anche in quei tempi molti venivano condizionati oggi la cosa è largamente peggiorata c'è a mio parere un'influenza fortissima non solo dei mezzi di informazione ma anche della scuola nel condizionare fin dall'origine delle persone e togliergli ogni senso critico è tristissimo ma non è un attenzione non voglio essere offensivo verso nessuno conosco persone estremamente intelligenti persone estremamente valide capaci che non sfuggono a questa cosa che sono condizionati che credono a quello che dice la televisione sembra incredibile ma è così ecco volevo anche io aggiungere questo quello che hai detto tu che condivido pienamente prima di lasciare poi rispondere a giuseppe ma io non ho molto da aggiungere perché così data parte ricordiamo tutti bellissimo romanzo di albus axley the brave new world è scritto negli anni 30 quindi in cui si parla del ministero del condizionamento dopo la rivoluzione fortiana non dell'educazione del condizionamento ed educazione sì certo io vengo da quel mondo lì educazione dovrebbe essere un educare vuol dire fare uscire non fare uscire da una certa condizione rendere autonomi perché questo è l'obiettivo ma anche corrad lawrence quando parla del mondo degli animali spiega che una un nocciolo di educazione esiste già nel mondo animale certo la gatta spinge il suo gattino dice vai vai per la tua strada insomma no devi farla la tua strada devi essere autonoma quindi devi saperti muovere con libertà questo è il tratto umano con libertà con con forza ma soprattutto con criticità questo è decisivo la criticità certo è venuta a mancare pesantemente nel mondo della scuola c'è un'uniformazione totale pensiamo alle varie giornate di no che sono giornate di indottrinamento di solito insomma la giornata la memoria va fatta certo che va fatta però oltre che ricordare il passato bisogna evitare che certe cose succedano oggi no per esempio insomma e potremmo fare tanti esempi di questo genere un libro come quello di ponson vai a scuola non lo si legge eppure non ripeto non è un cospirazionista per nulla cioè un uomo se volete un uomo di potere è già nato a windsor nella reggia vicino alla regina vittoria cioè siamo al centro di un potere però a un certo punto nella vita ha avuto il coraggio di andare contro insomma no ha avuto il coraggio delle conture uscito dal partito liberale entrato dal partito la buddista proprio perché racconta la guerra quindi uno dei padri del pacifismo si dice no sì io non vedo d'altra parte da quando l'italia è stata fatta uno dei punti nodali su cui ha lavorato il potere è stato proprio mettere le mani sulla scuola non è un caso oltre che sulle informazioni gramsci l'aveva capito per avere il potere politico se aveva l'egemonia culturale quindi la scuola gli ordini di informazione eccetera eccetera c'è da dire che magari chi diceva di combattere per la libertà per l'autonomia per la l'indipendenza dei nostri popoli si era dimenticato questo punto insomma gli hanno lasciato in mano la scuola per esempio completamente insomma e quindi attraverso la scuola hanno fatto passare un po quello che volevano ma si sono mossi con molta abilità i libri di storia sono libri di indottrinamento da parte la storia siamo pensiamo di acqua all'inizio è narrazione è narrazione un racconto che viene raccontato in un certo modo che ha un certo fine Nietzsche ce l'ha insegnato molto bene questo fine si chiama potere con la p maiuscola no sì anch'io non ripeto non sono ottimista in questa situazione non posso esserlo credo che nessuno ne lo possa essere però continuiamo a lavorare come giusto che sia in scienza e coscienza non importa saremo i giapponesi sulla tollo no altro adesso mi hai strappato visto che ho mi sono conquistato anche un po con il re di pietra il così la nomea di chi fa citazioni dei testi musicali celebri vai vai e leggi di tutti impara quei libri a memoria c'è scritto che i saggi gli onesti sono quelli che fanno la storia fanno la guerra la guerra è una cosa seria bufoni e burattini non li faranno mai e questa è la prima delle due edoardo ben nato perché comunque è sempre stato anche lui fuori dal coro e hanno cercato di tirarlo dentro in tutte le maniere per subire immaginabili fuori dal coro ieri come oggi e poi un'altra persona fuori dal coro sempre nell'ambito di citazioni musicali te la butto lì perché ci sta dentro esattamente in quello che tu hai detto a proposito della scuola we don't need no education we don't need no thought control no dark sarcasmo in the classroom era un roger waters che era bello incazzato scusa il termine nel 79 dove diceva appunto noi non vogliamo indottrinamento dove education non è educazione ma è proprio la l'indottrinamento visto quindi la spiegazione di verità ufficiali non vogliamo controllo del pensiero mi fa specie che roger waters con tutti pro e contro e gli alti e bassi che ha avuto in questi 40 e passa anni è rimasto oggi un musicista che non va nel senso in cui tu hai indicato si cerca di fare andare gli artisti e i personaggi dello spettacolo quindi conformemente lui è rimasto contro il ricordo quando c'è stato a proposito la questione del venezuela dove gli stati uniti hanno cercato di attraverso l'operazione guaidò di impossessarsi del venezuela c'era il buon peter gabriel che io adoro ma che era schierato con i con i ben pensanti e che suonava suonato a favore del di guaidò e della rivoluzione democratica in venezuela roger waters invece ha suonato sostenendo le ragioni della di maduro quindi le ragioni del no all'ingerenza statunitense nel venezuela ecco quindi anche questi ipo questo esempio di artisti che non sono accodati alla verità ufficiale visto che sono ormai quello che fa le citazioni musicali ho voluto comunque sottoportali perché comunque sono anche questi sono anche questi parte della dell'esempio tipo il fatto ma gli uomini dello spettacolo personaggio spettacolo artisti devono sostenere la verità di regime c'è chi per fortuna dice no per fortuna sì per fortuna poson bail nel decalogo che abbiamo evidenziato prima mette proprio in ruolo in evidenza il ruolo degli uomini di spettacolo non tanto degli intellettuali in senso strato proprio degli uomini di spettacolo degli artisti che sono poi alla fine sono quelli che incidono di più insomma no e lo dice chiaramente se vuoi giustificare una guerra devi averli con te e se non ce le hai con te li devi silenziare mettili da parte in modo che non sono vengano più ascoltati non possono dire più la loro poi c'è un livello di uomini dello spettacolo quello che hai citato tu prima che è ben difficile metterli da parte no e questa è un po la nostra fortuna insomma qualche resistente si trova anche a quel livello quindi il muro il muro incomincia a incrinarsi insomma no ecco l'ultima cosa che ti butto lì eh tu hai citato anche gli intellettuali ma oggi che film hanno fatto gli intellettuali io non ne vedo più bella domanda eh no a parte che mi rifiuto per questioni proprio che in principio già da prima del covid di guardare i talk show perché li divoravo prima poi ho deciso che ci avrei messo una pietra sopra però so che nei partiti intellettuali che un tempo erano ovunque mi viene in mente Pasolini Pierpaolo Pasolini ma i Pasolini di oggi non ce ne sono gli intellettuali che dicano il re nudo no sono tutti quei pochi che vogliono freggiarsi di questo titolo intellettuale ammesso che ancora qualcuno vi sia non sono tutti allineati coperti io ho questa impressione non so se anche la tua no non è che non ci sono ce ne sono ma vengono silenziati lasciati in un angolo e vanno scoperti molto a fatica insomma no eh io non conosco la casa edificia che ha pubblicato in italiano il volume di Ponson vai però hanno fatto un'operazione importante no e tante piccole case edifici lavorano in questa direzione lo stiamo facendo anche noi come associazione insomma no eh certo siamo ancora meno di Davide contro Bollia però cominciamo a essere in tanti eh quindi l'occhio del potere l'occhio di Mordor si gira ogni tanto verso di noi preoccupato c'è anche di peggio secondo me se posso dire una cosa che eh parlando degli artisti dei musicisti in particolare è incredibile come riescano a farsi passare per trasgressivi per rivoluzionari per gente che vuole cambiare il mondo quando sono perfettamente allineati a quello che è la direzione in cui qualcuno vuole che vada il mondo no però vengono visti come riferimenti a gruppi e persone sono non puramente casuali no? sono quelli che dicono sono quelli che dicono fuck Putin ma lo dicono in America non lo hanno ecco eh ecco infatti fanno i trasgressivi ma non sono per niente sono esattamente quello che eh chi muove il mondo vuole esattamente quello cioè vanno esattamente nella direzione del potere no? però vengono visti da tutti come qualcosa di e questo è c'è un che di diabolico in questa cosa no? che di satanico non so come dire no? Cioè io da non uomo di religione per carità però c'è un qualcosa effettivamente di quasi sovrannaturale nel riuscire a fare questo è perfetto credo non ci sia molto da aggiungere su questo d'altra parte è la famosa frase che ho citato prima dal Mein Kampf che io ho letto nella in un saggio di un francese Henri René Marou dedicato alla conoscenza storica pubblicato dal Mulino in cui parla proprio di questo discorso della menzogna che se è grande ti credono se è piccola non ti credono insomma no? Se poi è allineata ti credono ancora di più poi è vero questo meccanismo per cui si gioca a fare gli anticonformisti col conformismo più estremo più spinto insomma senza fare riferimenti a gruppi particolari non li facciamo non li faccio nemmeno io perché è inutile fargli pubblicità ricordo che anche Guccini due settimane fa ha detto esattamente la stessa cosa sono anticonformisti conformandosi insomma no? Ha detto anche un'altra cosa più pittoresca su dove si mettono le piume ma questa ce l'ha risparmiata ecco Guccini però ha dalla sua quella celeberrimo verso dell'eschimo che vale sempre tu giri adesso con le tette al vento io ci giravo già vent'anni fa ecco questo perché chi fa le trasgressioni le sedicenti trasgressioni oggi è arrivato qualcuno 50 anni fa a farle meglio di lui no? vabbè comunque ci stava perché ormai mi vengono fuori automaticamente vabbè poi è il tuo terreno questo quella frase però è una delle mie preferite ti giri adesso con eccetera l'ho già detta prima non mi ripeto Marco allora io innanzitutto ringrazio Giuseppe perché questa serata qua secondo me potrebbe andare avanti fino alle 4 del mattino l'angoscia un po' di vino e voglia di bestemmiare si è aperta la fase gucciniana e mi è venuta alle 4 del mattino automaticamente io però girerei la linea a Marco perché magari ha altre domande ha qualche domanda da segnalare da parte di chi ci ha seguito mi auguro che siano stati in tanti non ho aperto una mia finestra Facebook perché non volevo intasare troppo la linea Marco tu cosa dici? ma allora niente è stata una serata molto interessante secondo me a mio parere no? volevo allora andando con ordine la prossima serata del Drago non sarà settimana prossima quindi martedì 13 ma quella successiva il 20 e sarà l'ultima prima delle ferie per un motivo particolare perché siamo vicini al sostizio e parleremo appunto del sostizio d'inverno lo faremo con una persona che non abbiamo ancora colpevolmente mai invitato fino ad oggi che è il nostro caro amico Stefano Spagocci che è un oltre ad essere un astronomo un astrofilo e anche uno studioso della storia antica dell'archeologia quindi ci parlerà a tutto campo di quello che è il senso del sostizio quindi questo è quello che avremo quindi il 20 esattamente un giorno prima del sostizio che sarà il 21 alle mi pare 22.47 è un invito a nozze anche per me questo poi un commento anch'io potrei fare citazioni musicali ma essendo io un metallaro storicamente sono molto più trucide di quelle delicate poetiche che fanno i polli per cui poi dopo mi arrestano se a qualcuno mi è venuto in mente di qualche gruppo di quelli un po' vivaci però non si può facciamo così e niente volevo condividere un'immagine puoi sentire cosa ne pensate voi cioè sia tu che tu Giovanni che anche Giuseppe un'altra interpretazione della finestra di Overton scherzoso ovviamente che ho trovato su internet da fonte anonima che è questa qua finestra, comune finestra a un piano alto di un edificio da cui ogni uomo libero getterà se necessario anche in senso non metaforico qualunque cosa o individuo che tenti di applicare su di lui le tecniche di manipolazione del pensiero concepite dal sociologo Joseph P. Overton ecco, volevo sapere cosa ne pensate se vi sembra una buona idea un buon modo di interpretare questa tecnica di persuasione delle masse guarda, comincio io poi lascio l'ultima parola a Giuseppe allora, è fantastica e da tantissimi anni io, il mio piccolo lo ripeto ma è diventato una banalità spegnete la televisione accendete il cervello ecco, se puoi buttarla dalla finestra poi correte anche a rischio di fare male a qualcuno forse non è la cosa migliore però potete lasciarlo a spento usarlo per vedere un film o quel cavolo che volete ma non per farvi indottrinare è lo strumento principale ancora oggi sembra paradossale nell'era dei cosiddetti social la comunicazione politica e uniformante passa ancora oggi dalla televisione mi tolgo soltanto il piacere di ricordare che quell'immagine fa proprio parte anche di quello che l'abbiamo citato prima Roger Waters di Pink Floyd fece a Berlino il concerto di Berlino che è una straordinaria stratosferica c'era il momento in cui il buon Pink ragionava poi alla fine proprio prendeva il televisore e lo scagliava dal lato qui era una un'immagine che viene proprio anche a chiudere un po' il cerchio di un musicista eretico come che ho citato prima spegnete la televisione accendete il cervello o accendete la serata del dragon quando c'è Giuseppe a te la parola nulla da aggiungere sono assolutamente d'accordo spegnete la televisione la rete è importantissima la stiamo usando è uno strumento sicuramente di libertà rispetto alla televisione soltanto una piccola osservazione Overton in realtà non ha teorizzato questa cosa perché la sosteneva la smascherata che è un po' diverso insomma un po' come Machiavelli che ci insegna come funziona il potere ma che non può dire che lo giustifichi Overton era molto critico rispetto a questi meccanismi di potere poi capisco l'osservazione di Macho anche un risvolto giustamente un po' ironico e deve essere così mancherebbe altro anche perché una forma di resistenza è esattamente l'ironia l'abbiamo un po' lasciata da parte ma l'ironia è la satire le risate rispetto al re nudo vanno portate avanti e alimentate sono fondamentali saremo anche in pochi ma abbiamo oltre che il senso critico è un certo senso dell'umorismo che dobbiamo tenere vivo da questo punto di vista i miei due interlocutori di oggi Marco e Giovanni sono degli esempi perché sono tutte e due capaci di un finissimo umorismo che ho sempre molto apprezzato grazie ti ringrazio ti ringrazio tantissimo ovviamente l'ironia ce l'hai anche tu e mi auguro che la risata vi seppellirà dovrebbe seppellirà anche nel nostro caso spero una legge universale faremo di tutto per continuare a fare divertire pensando e far comunque riflettere come anche tu come storico ci insegna a fare non ho altro da dire grazie Giuseppe Marco a te la linea definitivamente sì benissimo allora grazie a tutti è stata una bella serata come sempre penso perché domani queste serate sono sempre tutte molto diverse l'una dall'altra alcune diversissime però a mio parere sono sempre venute molto bene tutte abbiamo sempre detto qualcosa di a volte ci siamo prolungati addirittura per quasi tre ore questa volta invece siamo abbastanza nei tempi però nella loro diversità tutte secondo me hanno portato avanti dei discorsi importanti che non saremo tanti magari a condividerli a pensarli però è comunque anche bello semplicemente bello riuscire a dirci fra di noi a comunicare alle persone che ci seguono quindi appuntamento non il 13 settimana prossima ma il 20 per una serata dedicata al sostizio con cui ci saluteremo e faremo anche ecco la bandiera della pace va bene d'accordo va bene stava mostrando intanto che io parlavo Giovanni mostrava in diretta la bandiera della pace va bene speriamo ovviamente tutti noi che succeda presto perché è ovvio che tutti ce lo auguriamo quindi un grazie a tutti per averci seguiti un rivederci al prossimo appuntamento in cui ci faremo anche gli auguri di buon anno e magari coglieremo anche l'occasione per dirvi due parole sul libro un po' particolare dell'associazione Givertoneto in uscita che verrà mandato ai soci immediatamente dopo le feste sarebbe già pronto però lo mandiamo ai soci 2022 dopo le vacanze di Natale perché col traffico di pacchi che vengono spediti in questo periodo non è molto sicuro spedirli quindi lo spediremo a inizio gennaio ai soci in regola per il 2022 me ne parliamo tra due settimane grazie a tutti buona serata e alla prossima occasione arrivederci a tutti grazie e buona serata a tutti buona serata grazie ancora grazie a tutti